Siamo al mercatino dei libri usati nel Lungotevere. Come potete vedere c'è una marea di gente, una marea di libri e una marea di libri che tento di vendere in seconda mano, non solo per una questione economica, ma proprio di sostenibilità. Vi rendete conto quanta carta, quanta cosa è spiegata. Questi sono i libri di Elia, poi ci sono i libri di Agosto e di Valentino. Prendiamoci conto un po'. Dopo un'attenta analisi, tutti questi libri sono totalmente da buttare, pur essendo molti nuovi. Gli unici salvati sono quelli là. Ma vi rendete conto lo spreco e l'assurdità di questa scuola? Guarda, tutti da buttare! È bellissima! Ma quant'anno qua piano c'è, ragazzi? In viaggio di cinque ore. Mi presti anche la mascherina che è sempre bella. Ed ecco Beatrice, al prossimo video, ciao!